In astrofisica un buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire nella materia, nella radiazione elettromagnetica. In parole povere è un corpo celeste dal quale non può uscire nulla, nemmeno la luce. Ma il telescopio orbitale della NASA Kandra, in orbita dal 1999, è riuscito a registrare il suono proveniente da un buco nero, un suono decisamente creepy, non c'è che dire. Grazie per la visione!